Il fare rete è la cosa probabilmente più importante per la Sicilia perché noi abbiamo molta intelligenza, questo è un popolo con il sole, quindi le cellule cerebrali funzionano molto rapidamente, il problema è che abbiamo molte belle idee, qualche iniziativa privata, non la mentalità di lavorare insieme ed è allora molto importante che quelle che sono le istituzioni, tutti gli organismi, ma anche le amministrazioni sul territorio facciano rete per promuovere una cultura oggi che è la cultura non solo del sud ma anche che ha caratterizzato la storia, la vita della nostra Sicilia e che si sappia aprire al futuro anche attraverso un turismo che non sia più solo spot legato ad alcuni momenti della stagione ma sia un flusso continuo come è possibile fare all'interno dell'Europa.